Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gianni di My2Capitalia e oggi vi farò vedere il gameplay di Ben Simmons uscito venerdì nella connessione Warped Reality Ben Simmons, playmaker alla grande, io l'ho messo la scarpetta key di quella del tiro da 3 punti 5 contro la palla 90, difesa sul perimetro di Gia Popovich, comunque l'ho messo Ruba e difesa del perimetro e poi l'ho messo velocità con la palla e anche per eccezione passaggio 99 allora i badge che ha bisogno di Ben Simmons è solamente quello del canestro, oro c'è 44 badge all of fame, 18 oro, al tiro è devastante, c'è tutti i badge off completamente al tiro controllo perfetto, rilascio flessibile, cecchino, zone hunter, lunga gittata, completamente bugato perché vorrei provare anche i shakhi, i centri devo provarli tutti rilascio è quello che fa sempre verde, fa questa carta questo giocatore qua è veramente bugato, non gli hanno messo il pro 3, il curry slide, però comunque c'è il pro 2 che è bugato completamente c'è moto, si vola, bam ho zone hunter tutti, fuori dall'arco, dentro c'ha tutte le zone calde tutte le zone calde schiacciate è quello che è ragazzi, perché è completamente instoppabile in entrata praticamente vi parlavo di questo pro 2 bugato che va via tutto, questo qua ragazzi, questo qua è il pro 2 che c'ha Ben Simmons alla fine Bobby Jones non si può più vendere, però l'ho pagato 80k, l'ho provato quindi gli ho messo o zone hunter e tiratore decisivo, che sono gli unici due, una scarpettina che è la, una scarpettina easy allora, sto qua è Blue Tigers, raga, sinceramente non l'ho mai, non l'ho mai incontrato anche lui, senza che partita, raga vabbè, andiamo a metterci le nostre impostazioni difensive, come al solito spero che sia una bella partita, raga, veramente io racconto sto qua, direi che è tanta roba Ben Simmons, raga è tanta gente, sento di reno strani quindi vedrò un po' cosa fare magari durante la settimana si abbassarà un pochettino vabbè, let's go, let's go, bro let's go, bro e via si parte con la moto Ben Simmons, ok, niente sto qua completamente on bull si Karim come on Karim press, no si, bravo, bravo Simmons, dritto snatch big green, no full white, come on prima tipa di Ben Simmons, cominciamo bene, raga bella partita questa ok, 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 ok bravo snatch, puzzolente beh, lo sapevo, la puzza io reagdando, lo sento, raga, che sta reagdando male sto qua completamente male si lì come on, vai Ben Simmons dritto per dritto bang come on, 5 punti per lui me credi dritto si Ben yes sir Ben Simmons si puzzolente bella defense, Rudy I love Rudy Gay, bro I love Rudy Gay la Karim bang ci siamo, raga 11 pari mai sentito, raga mai sentito Blue Tigers che cazzo, eh bravo Simons vola dritto come on Karim Karim Bravo Giannis Allora Io gioco con un playmaker Senza slide Pure una guardia Senza slide Io mi trovo bene con Durant Raga Veramente Io lo amo Durant Qualcosa di pazzesco Bello Non può sbagliare Con rilascio che ha La base che ha Simons Difficilmente sbaglia Dall'angolo Bravo Simons Fallo Ben simons 15 per lui Bravo Caboia McGrady Imarcabile Sì Sì Karim B3 Come on 28 pari Sì andì Sì andì raga Bella Let's go good defense Di Ben simons Sì Sì lì Lì Vieni qua No no Sì Sì Ben simons Sì Ben simons 17 Bravo Rudy Attaccala 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 Sì Good defense Good defense Good defense Good defense Bravo KD Di Rudy Big shot Full white Come on Bravo Rudy Ah bravo Bel tiro Ci stava un bricchino Puzzava Puzzava di brick Bravo Simons Che palla Che palla di Simons Che palla di Simons Canta Canta Vediamo un po' come ha messo la panchina Ok ci posso stare Ho visto già bene Bobby Jones Da 3 Ok Bella defense Di KD Rudy Come on Big green Rudy Gay Defense Con calma Con calma Raga Questo qua fa pressing Allucinante Questo è fallo Però Sì Grant Hill Ben Come on Piccole cose Le piccole cose Dretto C'è Jaren Jack Jr Stai davanti Stai davanti Stai davanti A presto Sì boh Vai Vai Sione Vai Sione Showtime Venga Sione Come on Come on Uuuu Porca boia L'avevo visto L'avevo Bobby Look at Bobby Showtime Bobby Jones Che giocatore Bobby Jones Good defense Bobby Jones Look at defense Bobby Jones L'avevo visto Cazzo Cazzo L'avevo visto La still Mamma mia Bobby Jones Che giocatore Fantastico Che giocatore Sì così Sì con la trap Trapper Di Leonardo Di Caprio Leonardo Lì così Bravo Let's go Ti amo Leonardo J.R. Non le fa ste cose Non le fa ste cose Incredibile Sono gasatissimi Sono gasatissimo Io Attenzione ho visto Bobby Jones Bobby Jones Ancora Bobby Jones Bobby Jones Ancora Bobby Jones Stoppato Incredibilmente Bobby Jones Sì snatch Sì Puzzolente sto tiro Ma non è che puzza Oh Leonardo Ma sono satanati i miei Sono completamente satanati Bobby Jones Dall'angolo Transizione Non tira Mi fa laggare Ancora non tira Che lagga Fallo Fallo please Fate di fallo Raga ma che laggata Quattro volte Scherciato quadrato Quattro volte Voglio vomitare Veramente Ok ok Tieni così Good defense Ah bella defense È mia è mia No vabbè dai Uh Jaren J.J What a defense Vai Bobby Bobby Finta Attaccalo 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 Challenge Jack Non c'è la slide Dio buono Non c'è la slide Bobby Jones San te Dio Snatch Snatch puzzone Sì snatch puzzone Ci sono lì Sì zione Bobby Stop Pop Bobby Jones Look at Bobby Jones Sì fai pure pausetta Fai pure pausetta Oh Me l'ha lanciata addosso Me l'ha lanciata Me l'ha lanciata addosso Rai No Bobby No Porca boia Che close out Imbarazzante Che close out Imbarazzante Sì Lì Lì Sì Lì Dio caro ma quanto dorme Bobby 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 Mid Easy Bam due punti Madonna Madonna raga quanto mi sta piacendo Bobby Quanto mi sta piacendo Bobby Non è la slide Ma anche Kirilenko non è la slide Kuzma è la slide Va provato con Kuzma Incredibile Kuzma Kuzma Kirilenko o Bobby Jones Eh bisogna vedere Perché se mi tengo Bobby Raga Kuzma E Kirilenko volano E sono 200k E sono 100k Sono Buona Sì Attaccalo Jaren Jack ancora Jaren Jack Junior Mamma mia Torna in defense Torna Go defense di Leonardo Eh sì È impanicato questo Eh ma guarda un altro rebound Si prende Non ci credo raga Quanti rimbalzi offensivi ha preso Costuio Sto uomo Sì Attaccalo Attaccalo Posterizzato Bam ancora Zione Sta bugato John stai calmo Stai John Oddio Ho visto una steal Cravorosa Raga Sì 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 Ok con calma Eh buono Sì 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 È quello che vogliamo noi bro È quello che vogliamo noi Sì così con la defense No 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 Che cosa Cosa ho visto raga Che sbocco No anche questa no però Cosa ho visto raga Cosa sto vedendo Ma come sta giocando questo Sì Simone Simone Simos Simone Simone Simos Mamma mia Che biglia che gli ha dato Che non look Che non look Mamma mia che biglia Sì Simone Simone Stop Pop Simone No Mamma mia raga Simone che carta Ma che palla gli ha dato raga Che palla gli ha dato Voglio rivederla 20 volte Con calma 71 79 71 79 Quanto cazzo pressa questa È partito con la moto È partito con la moto Simone Simone è lì Crandall Let's go 23 23 10 Sì con la trap Sì con la trap No Sì? Ah peccato Peccato raga peccato Simone Assist Moving green Niente Mamma mia Io non ho capito raga perché mi fa il passettino Perché mi fa il passettino? Santo Dio Madonna che stoppata Madonna ma quanto stanno difendendo i miei raga Cioè i miei sono imbarazzanti sto game I miei sono imbarazzanti sto game Raga scusate per le lag durante la live Cercherò di tagliarle Quando faccio la registrazione Perché è un po' con più qualità Ok? Sì Non ci c***o Mi ha fatto passare Mi ha fatto passare raga Lì Spamiamo un po' di Pro 2 Sì è andato Stopp Ben Simmons 28 GG bro GG 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 Raga spero vi sia piaciuta sta perita qua Perché è stata veramente clamorosa Comunque con uno molto forte Lì Ben Pegliamoci anche questo Undicimo assist per Ben Simmons Sì è la Steel Digi di Simmons Per chiudere la partita Mamma mia che partita raga Che game Ben Simmons 14 su 20 al tiro dal campo 3 su 6 da 3 punti 2 su 2 tiri liberi 33 punti 33 punti 2 rimbalzi 11 assist 2 palle recuperate Palle perse 5 Insomma Stoppate 0 Schiacciate 6 Plus minus di 45 No di 11 Vediamo lui E lui male raga Lui veramente male Abbiamo difeso da dio Abbiamo veramente difeso In una maniera clamorosa Non si sa Non si sa se è off-ball CPU È un mix di Di popoviciano Gregoriano Ai livelli Extraterrestri Alieni Alieni mie in questa partita qua Vediamo Spero vi sia piaciuto il gameplay Raga Ben Simmons Come avete visto È fenomenale Raga Con un 5 out Fatto veramente bene 5 out Parlo Del 5 out Con spaziature Bellissime Clamorose Secondo me Con la moto Speed boost Segna praticamente sempre Raga Io penso che Terro Bobby Jones E venderò Kirilink e Kuzma Cos'è almeno Adesso andiamo a vedere Un attimino Kirilink Quanto i soldi Quanto costa Andre Kirilink So che è a compra ora Perché lo so E sì Sta a compra ora Ragazzi Sta assolutamente a compra ora 87k Sì sì Si accomodi Per favore Signorina Finazzi E E Kuzma Invece Kyle Kuzma Ecco Kyle Kuzma È interessante Come 3 Perché Secondo me Può Può essere Io gli do Un try Gli do ancora Un try A Kuzma Sì Raga Spero vi sia piaciuto Questo gameplay Adesso cercherò Di evitarlo Nel minor tempo possibile Caricarlo su youtube Grazie mille Raga Un bacione E ci sentiamo In settimana Per i prossimi gameplay Bobby Jones Rudy Gay O Shack Scrivetemi sotto Nei commenti Un bacione Raga Grazie mille Grazie mille